Nel corso del Consiglio Comunale, svoltosi a Castellabate del 5 novembre 2019, si è parlato dell'importante questione del Vico De Vivo di San Marco. La Giunta, su proposta del Sindaco Spinelli, ha messo ai voti una delibera per intervenire sull'istituto che rischia di vedere una fine. Secondo la delibera, si richiede un intervento alla provincia e al dirigente scolastico del Vico De Vivo al fine di ristabilire le condizioni minime di sicurezza dell'edificio scolastico e di effettuare gli interventi di manutenzione per permettere il regolare utilizzo di tutto l'ambiente scolastico. Inoltre viene richiesto l'investimento sul plesso di San Marco di alcuni fondi impiegati per pagare degli immobili del Comune di Agropoli utilizzati per dei corsi di studio del Vico De Vivo che potrebbero essere spostati a San Marco e vengono richiesti anche il potenziamento dell'offerta formativa e la realizzazione di un istituto omnicomprensivo sul territorio di Castellabate. Durante il Consiglio è intervenuto il capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo che ha difeso a spada tratta un istituto scolastico storico del territorio cilentano. Stiamo parlando di una realtà che tutti noi dovremmo difendere a denti stretti, sottolinea Lo Schiavo. Il problema si risolve andando alla provincia a battere i pugni sul tavolo, afferma. Determinatissimo nell'affrontare la questione e stanco di un'ennesima richiesta all'ente provinciale che tale resterà. La provincia di Salerno crea situazioni anomale e la denuncia di Lo Schiavo. Ora è il momento da parte del Consiglio di adoperarci per ottenere un risultato serio da ora a febbraio, altrimenti il prossimo anno la struttura chiuderà i battenti. Ci vogliono fermezza e pugno duro perché tolta la scuola muore l'anima di San Marco durante l'inverno. Sono queste le parole di Alessandro Lo Schiavo, capogruppo d'opposizione che sta partecipando attivamente ad una battaglia per fermare una quasi inesorabile chiusura di un istituto importantissimo per il territorio cilentano.